Amore, ti devo parlare. Siediti. Avrei dovuto dirtelo prima, ma non trovavo mai il momento giusto. Amore, la nostra Volkswagen è usata. L'unica sorpresa è che sia usata. Con 110 controlli di qualità, in Volkswagen Outlet trovi solo l'eccellenza dell'usato Volkswagen. Auto con massimo 48 mesi che non sono mai uscite dalla nostra rete. Scoprilo nelle concessionarie Volkswagen da Sveltauto.